era nel problema domanda come ti senti ad essere fidanzata di un alcolista loredana ad essere sincera non mi sono posta mai il problema sia prima quando mario era nel problema beveva che ora sono sempre stata molto critica con me stessa cercando di essere molto vicina alla perfezione ma non mi è mai interessato il parere degli altri soprattutto quando le critiche mi arrivavano dagli amici alcolisti di mario che mi vedevano troppo perfettina molto rompiscatole e sempre pronta a mettere i puntini sulle i le critiche non mi toccavano perché io ero rivolta a salvare il mio fidanzato dall'alcol ed essendo contro di loro non potevano che vedermi come una nemica una sera un alcolista mi tirò fuori il soprannome di acidella e mi diede anche la spiegazione dicendomi che io me la prendevo molto per quello che veniva detto non ero capace di stare al gioco e attaccavo prima di essere attaccata commento acidella è il giusto soprannome di chi è stata tanto forte da liberare chi amava dal vizio dell'alcol la